Terza corsa, il premio Lemon Drà, una prova per quattro anni di ottimo livello a invito 1, Quantro, Edoardo Baldi, 2, Carlo Sopì, Giusy Savarese, 3, Cardoso Di R, Pietro Gubbellini, 4, Conan Opie, Enrico Bellei, 5, Callisto, Vincenzo Gallo, 7, Cole Brigette, Alessandro Gocciadoro non corre con il numero 6 Caramel Club, 200 a lancio, inviamento che si è perfezionato, leggermente discosto Callisto che si ritrae così come Carlo Sopì, allo stacco è veloce Conan Opie che scivola al comando nei confronti di Cardoso Di R e Quantro, Cardoso rimane di fuori con Quantro che ha serrato sotto più indietro, invece c'è Cole Brigette, si ritrae ora Cardoso Di R così la curva viene completata da Conan Opie con il plotone in fila indiana e i 400 che vanno nell'ordine del 28 e 3. Al comando Conan Opie nei confronti sempre di Quantro, quindi ancora Cardoso, poi più indietro il Coli Brigette, i 600 in 43 e mezzo in rallentamento da parte del Battistrada. Quando si va sulla seconda curva con il plotone che si è ovviamente ricompattato dietro Conan Opie che comunque arriva a paletto di metagara in 59 e mezzo con un 15 e 9 di frazione, di fronte ancora nessuno che si muove e così Conan Opie può gestire e arriva al chilometro in 1.14.2. Ora c'è l'accelerazione a parte della Battistrada, sposta Cardoso Di R dalla terza posizione va in caccia del leader, più indietro Coli Brigette e anche Callisto che prende la via del largo. Siamo a metà della piegata conclusiva con Conan sempre al comando, ha spostato la corda anche Coli Brigette, diritto ad arrivo con Conan al comando, Cardoso che è lì a mezza lunghezza, poi più indietro c'è anche Callisto che prova a fare il finale, Conan che cerca lo stacco da Cardoso che rimane lì con Quantro di dentro, Conan Opie che ha risolto la partita e viene a concludere nei confronti probabilmente di Quantro che rientra a Cardoso Di R. 1.56 sul cronometro per Conan Opie ed Enrico Bellei, 1.12.2, 1.12.3 tenuto conto anche del parziale iniziale, è andato al comando Conan Opie e ha gestito assolutamente senza problemi, poi vedete che per la miglior piazza è Quantro che rientra a Cardoso Di R e quindi l'ordine arrivo che recita 4.1.3 per questa terza corse, il successo di Conan Opie, Enrico Bellei guida i training, i colori della signora Olga e Speranza Torres. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti